cpm corso di soundwriting dome bulfaro ogni canzone ha il suo momento clou quello che sintetizza il fine lo spirito del brano ci dice dove di solito lo si trova e davvero sempre solo nel ritornello o lo si mette anche in altre parti della struttura di una canzone la forma canzone ha più momenti clou o può avere più momenti clou non è detto che avvenga quello che solitamente si costruisce all'interno del testo canzone e cioè che dalla strofa progressivamente si va al pre ritornello si fa al bridge quindi c'è un crescendo finché si arriva al ritornello che è il punto in cui solitamente viene collocato il clou della canzone questo lo dice lo racconta molto bene per esempio in una piccola canzone che si intitola canzone a chiara stella scritta da salvatore di giacomo e resa famosa nel repertorio napoletano da roberto muro per esempio da altri grandi interpreti di questa canzone e lui dice ogni canzone ha il ritornello che è come se fosse il perno di ogni canzone e più è appiccicoso e bello tanto più si intreccia di espressione e guardate che di giacomo esattamente c'entra il problema il clou solitamente è nel ritornello e infatti se noi andiamo a vedere e spostiamo la dizione e il termine da quello italiano cioè ritornello ritornare costantemente a ribadire un concetto affinché diventi memorabile memorizzabile e si spera anche memorabile nella nella definizione invece inglese si dice chorus cioè chorus che deriva etimologicamente dalla parola coro ma coro e anche alla stessa diciamo così radice di core quindi la canzone ha il suo cuore nel ritornello però non c'è solo il ritornello per esempio quando c'è un incipit di una strofa che torna costantemente volevo fare vedere argento vivo di daniele silvestri che abbiamo già citato nelle strutture in modo da completare il discorso e noterete che nel ritornello con cui buca e entra di spallata con con queste queste parole ho 16 anni mai da più di 10 anni che vivo in carcere nessun reato commesso là fuori fui condannato ben prima di nascere e quindi ci presenta uno il personaggio ce lo descrive contratti puliti salienti perché proprio un ritratto perfetto e ci dà il tipo di umore e ci descrive esattamente il nostro protagonista nella canzone questo 16 anni tornerà costantemente nello sviluppo della canzone e funzionerà da clou e avrà però nella conclusione il suo sviluppo la sua chiusura di cerchio noi abbiamo letto che qui nessun reato commesso là fuori fui condannato ben prima di nascere ma la canzone si chiude con la stessa apertura dicendo ho 16 anni e vivo in un carcere se c'è un reato commesso là fuori è stato quello di nascere a